E allora ragazzi eccoci qua, dopo gli avvenimenti accaduti martedì sera alle ore 20.45 per la partita di Coppa Italia tra Juventus ed Inter sono arrivate le sanzioni, Quadrado tre giornate di squalifica, Andanovic una giornata di squalifica, Lukaku un'altra giornata di squalifica. La curva sud della Juventus una giornata a porte chiuse, non è per fare polemica però la legge non è uguale per tutti e questo è chiaro, non capisco perché utilizzano sempre due pesi e due misure per fare poi le sanzioni, per dare le squalifiche. Quando fu di Coulibaly in Inter-Napoli e ci furono dei cori discriminatori nei confronti di Coulibaly da parte della curva nord, lo stadio dell'Inter venne chiuso per due partite tutto e in più la terza giornata solo la curva è chiusa. Ora io non capisco questi due pesi e due misure, sono stati fatti dei cori razzisti nei confronti di Lukaku? Una giornata alla curva, noi due giornate tutto lo stadio e una giornata solo alla curva, cioè perché due pesi e due misure? Io questo non capisco, ma non ce l'ho con i tifosi della Juventus, attenzione che quelli non c'entrano una mazza, perché giustamente che c'entrano i tifosi? E' normale che i tifosi guardano sempre, tirano sempre l'acqua al loro mulino, però ragazzi se tanto mi dà tanto e se la legge deve essere uguale per tutti, allora come funziona? Per quelle discriminazioni a Lukaku una giornata soltanto solo alla curva, a noi due giornate tutto lo stadio e una giornata solo alla curva. Ma due pesi e due misure non mi stanno più bene, mi sta cominciando a rompere un po' le scatole, per tutto io, per tutto. Ora venite a dirmi anche, perché sicuramente ci sarà chi me lo dirà, ma perché Andanovic non meritava le stesse giornate di quadrato? No, 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 perché Andanovic non ha creato il bordello che ha creato quadrato, che sia chiaro a tutti. E qui con le sanzioni chiudo l'argomento Juventus Inter perché non ne posso proprio più, però sempre due pesi e due misure e questa cosa non è neanche normale. Non è normale e vi ripeto, non voglio litigare con voi che siete qui sul social, ce l'ho con chi decide, perché non è né colpa mia né colpa vostra, né quando decidono a favore nostro, né quando decidono a sfavore vostro, l'ho preciso, l'ho preciso, per non essere insultata ancora una volta per il nulla cosmico. Cioè, voglio precisare questa cosa anche per avere un feedback con voi, intelligente e non sempre aggressivo e non sempre, diciamo, face to face in maniera molto aggressiva. Ma ecco, posso, possiamo parlare in maniera tranquilla? Si può? Si può? Meno male. Ah, speriamo.